Ciao a tutti, sono Fabrizio di Sottosopra, oggi abbiamo il piacere di essere insieme alla professoressa Laura Bazzica Lupo. Salve professoressa, grazie mille per la sua disponibilità e gentilezza e grazie per la sua pazienza, visto che abbiamo avuto qualche problema di connessione. Grazie. Presento la professoressa per tutti coloro che non dovessero conoscerla. Laura Bazzica Lupo è docente di filosofia politica presso l'Università di Salerno, è stata presidente della Società Italiana di Filosofia Politica. Le sue ricerche sono di ampio respiro e avvertono su vari ambiti, ad esempio sulla dimensione estetica e la politica, sulla governamentalità neoliberale, con particolare attenzione alla logica economica e sulla biopolitica. È autrice di diversi libri, tra alcuni di questi, ad esempio il Governo delle Vite, Biopolitica e Economia, di La Terza, Biopolitica è una mappa concettuale di Carocci, dispositivi e soggettivazioni, di Mimesis, e inoltre ha curato anche, ha introdotto anche un volume, Dialoghi sulla Sinistra, Contingenza, Egemonia e Universalità. Di che cosa parleremo oggi con la professoressa? Essendo una filosofa politica, cercheremo di attenzionare il tema del potere, parlando anche di neoliberismo e biopolitica, e sono temi su cui la professoressa ha riflettuto molto. E inoltre cercheremo anche di attenzionare, cercheremo di capire perché gli studi di uno dei più grandi pensatori del Novecento, Michel Foucault, ci possono essere di grande aiuto per comprendere il modo in cui il potere agisce e muta. Se è vero che la nostra democrazia, se è vero che ancora siamo, la nostra è ancora una democrazia, noi abbiamo il dovere di occuparci di questi temi di politica e di potere in modo profondo e con attenzione, perché una democrazia senza un popolo che non riflette su questi aspetti, rischia di indebolirsi e di essere svuotata. Io penso, e pensiamo anche come associazione, che la posta in gioco nella comprensione del potere, in particolare del potere neoliberista, è una posta in gioco molto alta. Infatti riteniamo che l'analisi della genesi e del funzionamento del neoliberismo è una condizione essenziale per poter pensare in modo, per poter pensare e anche per poter attuare una resistenza che sia efficace. E quest'ultimo è anche un altro dei temi di cui affronteremo, che affronteremo con la professoressa. Inizierei con la prima domanda. Professoressa, prima di entrare nel gioco delle riflessioni che lei farà, vorrei fare una domanda introduttiva, generica, ma comunque necessaria per poter comprendere le categorie fondamentali, come ad esempio quelle di biopolitica, di processi di soggettivazione, di governamentalità, che ci serviranno nel seguito. Quindi vorrei chiederle, come pensa Foucault il potere? In che modo, a differenza della tradizione filosofica, Foucault pensa, e perché le sue analisi sono importanti? Bene, insomma, l'importanza di Foucault è l'alza, essendo spesso, ma un filosofo comunque, filosofo e storico, genealogista di grande importanza, è proprio nella crescita e nello sviluppo del neoliberalismo, a cui lui dedica due corsi, quindi la nascita e la biopolitica, come tema di governo, che ha attirato di nuovo l'attenzione, perché c'è stato un periodo invece in cui è stato studiato per altri motivi. In realtà il problema è che, come hai detto benissimo nella domanda, nell'introduzione e anche nella domanda, in realtà i sistemi di studio teorici con cui è stato affrontato il tema della politica, la sua riduzione, il tema della politica ridotto al tema dello Stato e soprattutto il potere ridotto al sistema istituzioni e basta, questo è il punto debole, perché rende impossibile comprendere l'attuale assetto di potere. Se noi guardassimo soltanto al Parlamento, allo Stato e alla disposizione dei poteri tradizionali, moderni, quindi alla sovranità, non ci accorgeremmo che, non che lo Stato sia venuto meno, tutt'altro, anzi al contrario, è che però lo Stato ha subito, come la sovranità, una trasformazione e Foucault offre, insomma ci offre questi momenti attraverso un approccio al concetto di potere assolutamente rivoluzionario, assolutamente nuovo, in maniera profondamente diversa da come è stato studiato. Possiamo al massimo accostarlo a quello di Arendt, di Anne Arendt, che anche lì parla del potere in modo nuovo, diverso da solito, ma veniamo a Foucault. Foucault contesta che il potere possa essere pensato in una dicotomia potere-libertà, cioè che era la dicotomia classica, liberale, moderna, dello Stato, per cui lo Stato ha la sovranità e ottiene legittimazione dal cittadino, prima con il suddito no, ma con il cittadino sì, e poi attraverso la separazione tra pubblico e privato si gestisce questo sistema. Ora, in realtà, la storia, questa è sicuramente la teoria del potere, quindi il potere da una parte, e la libertà, e gli abusi di potere contrastati dalla società civile, tutto questo, diciamo così, teatro della politica, così come è pensato nel periodo classico della modernità, cioè il periodo liberale. Ora, il problema è che questo non descrive di fatto i meccanismi di potere. Quando si va, come fa Foucault, a studiare il genio, logicamente il potere, cioè non nella sua astrazione, ma nella sua configurazione in punta, che presenta anche molte differenze, molti movimenti, molte fratture, non ha fatto un continuum, bene, noi ci accorgiamo che in realtà il modo con cui vengono gestite le vite, cioè il potere che veramente gestisce le vite, non è tanto quello istituzionale, ma quello si accosta e viene a provenire soprattutto nel periodo della piena modernità, cioè da quando il capitalismo esplode e contemporaneamente esplode il liberalismo, è un tipo di potere, cioè diverso, un potere che lui chiama governo, per poi arrivare con la rivoluzione neoliberale, neoliberista, al termine governamentalità. Vediamo di andare per tappe, in modo che siano precisi diciamo gli elementi. Innanzitutto il potere invece che la politica. La politica, intesa come luogo delle istituzioni dove si contende il potere, è meno importante o comunque relativamente importante rispetto al concetto di potere. Questo potere è un potere relazionale, cioè è una relazione di potere, non esiste il potere da una parte e la libertà dall'altra. Le relazioni di potere sono tutte relazioni asimmetriche, in cui ovviamente qualcuno è più forte del lato, ma non è che il polo governato sia del tutto privo di potere. Questo è importantissimo per pensare quello che è l'ultima parte delle domande che intendi farmi, cioè la resistenza, il cambiamento. non è che c'è un potere neoliberale da una parte e noi che non abbiamo nessun potere dall'altra, al contrario, noi siamo coinvolti nel sistema di potere perché il potere è una relazione, è una relazione, ma è una relazione specifica, produttiva, positiva, tanto è vero che si esplicita in dispositivi, che significa che è produttiva, che il potere non è tanto un potere di repressione, come invece uno se immagina contro cui spezziamo le catene della libertà. No, il potere è un potere che costruisce i soggetti, cioè il potere di governare le vite passa soprattutto nella modernità piena nella costruzione di un soggetto che collabora e coopera al sistema stesso. Allora, se coopera significa che viene e non viene forzato solamente forzato, certamente viene indotto, spinto, accompagnato, ma è collabora, coopera a questi dispositivi di potere perché questi dispositivi di potere sono strutturati attorno ad un discorso di verità, che significa un discorso veridico, a uno statuto di verità, qualcosa essendo considerata vera, che essendo sentita come vera anche dal governato, diventa in modo più efficiente attuare un determinato scopo. Cioè, il dispositivo si struttura attorno a un statuto di verità che ne garantisce l'efficacia. Qual è l'obiettivo del governo? L'obiettivo del governo non è avvantaggiare un sovrano, un potere esterno, è utilizzare la prestazione, l'opera, la crescita, la vita degli individui, delle persone, delle popolazioni. Guardate, il termine popolazione è clave, non interessa il popolo, che è, come sapete, il sovrano, il popolo detiene la sovranità, eccetera, eccetera, e la usa secondo i metodi giuridici, non interessa questo. Ciò che contano sono le popolazioni, popolazione è un termine, sia biologico che economico, perché questo tipo di governo si struttura attorno a due regimi di sapere, quello biomedico, la ottimizzazione della vita, la difesa contro i rischi che la vita corre, ecco, oggi è evidente con il rischio del contagio, quindi gestione di un potere che mira a ottimizzare le vite, a ottimizzare la salute delle vite, la sopravvivenza stessa, come se fosse, vedete, la naturalizzazione, questo è molto importante, è una scienza la biomedicina, non è una chiacchiera, e oggi si insiste molto su questo aspetto di scienza, è conoscenza, è statuto di verità, se tu ti ci opponi ti trovi completamente fuori, sei fuori dal discorso pubblico, chiaro, la scienza è il luogo che conosce soggetti umani, umani, viventi, nell'ottica del renderli ottimizzabili, ci siamo? Ora, questa è un'ottica economica, perché l'altra scienza, la scienza più importante di tutti, che regge il dispositivo di governo, è l'economia, non tanto l'economia come luogo dove si produce, si distribuisce, ma l'economia come tecnica di teoria, tecnica di organizzazione per l'ottimizzazione, è chiaro, utilizzare la produzione, utilizzare la distribuzione, utilizzare la crescita, ottimizzare, questo concetto è legato al dispositivo, se si usa un dispositivo, dico la cosa più semplice per fare un esempio, per pulire casa, è ottimale l'aspirapolvere piuttosto che la scopa, vero, benissimo, qui ci troviamo di fronte a una gestione del vivente che presenta lo statuto di verità dell'economia e qui dobbiamo naturalmente entrare proprio nel specifico delle teorie economiche come teorie dell'ottimizzazione della prassi, è chiaro, e con il neoliberismo l'ottimizzazione della prassi ci dice Foucault è stesa a tutti i campi, anche l'ottimizzazione della prassi di gestione di una famiglia, l'educazione per cui l'educazione di un ragazzino viene curata per ottimizzare il prodotto, cioè quindi è mandato in una buona scuola, deve imparare l'inglese, deve fare, educare significa rendere una persona in grado di, e naturalmente questo in tutti i campi. Allora, il concetto di potere assume così un aspetto vivo, positivo, è potere relazionale, è potere, e naturalmente chi è investito da questo potere non è, come posso dire, estraneo, oppresso, è sollecitato in un certo senso, nel senso che il regime di verità, che in questo caso è l'economia capitalista di oggi, quindi, che ruota attorno al concetto di concorrenza e così via, questo concetto viene assunto come proprio. Ora, Foucault si offre questo e usa il termine biopolitica, che è un termine molto importante, ora, certamente interpretabile come ottimizzazione della salute, ottimizzazione del bios, inteso in senso puramente fisico e naturalistico della testa, della capacità che poi fa parte comunque del bios e in questo senso ha un coté, diciamo, la biopolitica ha un coté che trova il suo aspetto tanatologico nel razzismo. Io faccio fuori quel virus che è costituito dalla infezione ebraica o dall'infezione dei asiatici e salvaguardio la salute del gruppo. Ma questo è il suo aspetto torvo, chiuso, ma in realtà poi ha un suo coté invece molto affascinante, molto accattivante, per cui è usato normalmente per il miglioramento della razza, per il miglioramento della salute, si evitano certi rapporti piuttosto che altri, si ha un comportamento una fitness, si ha un comportamento di cura del sé perché si cerca di ottimizzarsi, di ottimizzarsi. Quindi è una, sicuramente questa, questo, la biomedicina è l'aspetto più, ma non interessa, credo, in maniera più forte che contemporaneamente a questo e dentro alla mentalità che già questo mostra, Foucault mostra che è l'economia la logica di questo governo, è l'economia, ecco perché l'economia è diventata così importante, perché è la logica, è la teoria dell'organizzazione, è la logica di come le cose vanno organizzate per avere il massimo. Questo è il punto chiave, questo non era presente nel vecchio liberalismo. Foucault nei suoi due corsi al Collège de France mostra come questo sia avvenuto come progressivamente questo diventi il liberalismo che era il Sf, il Passé, diciamo il diamo spazio ai poteri sociali economici, i poteri privati, vero? però sotto la tutela del Stato che è il potere pubblico, invece poi si è slittato verso un'altra nuova forma che è il neoliberalismo, a cui però sarà la seconda domanda se è ben ricordo, vero? Qui invece ci possiamo fermare sul fatto che la biopolitica è lo sforzo nel periodo neoliberale, per Foucault, lo sforzo nel periodo neoliberale di creare, di produrre, un potere che produca soggetti adeguati al mercato, soggetti, produzione di vita in quanto produzione di forme di vita, non biopolitica perché sì, anche si occupa del corpo, perché è adeguato al mercato non un uomo di cento chili che è impresentabile ma una persona che sia sul pezzo che sappia fare, che sia un imprenditore di sé, questo punto è stato intuito da Foucault in maniera molto chiara e Foucault ha capito che questo processo di soggettivazione significa cioè non esiste un soggetto predato come era invece nel vecchio liberalismo ci sono i soggetti poi c'è lo Stato le istituzioni i soggetti sono liberi e così via no, qui il soggetto viene costruito costruito sia un processo di soggettivazione questo processo di soggettivazione nel mondo liberale è un processo ambivalente perché da una parte vengono sollicitate le capacità la libertà il potere il potere è una relazione non mi stancherò di ricordarlo è una relazione cioè qualcosa per cui uno dell'altro capo il capo del governato è attivo collabora coopera deve essere attivo si governano solo uomini liberi mentre si comanda a uomini schiavi o serbi e così via perché non hanno scelta invece qui si tratta di formare uomini liberi e questi uomini liberi lo sono davvero cioè hanno una potenza non va sottovalutata questa potenza noi tendiamo a sottovalutarla cioè immaginiamo che invece ricordiamoci che la rivoluzione neoliberale nasce in risposta a un eccesso di potenziamento a quello che sembrò al capitalismo e allo stato un eccesso di potenziamento delle forze dal basso sono esattamente quelle le forze che in realtà il neoliberalismo da una parte sollecita dall'altra immediatamente indirizza per controllarle dove le controlla e questa è una società di controllo su cui penso che poi torneremo con un'altra domanda allora i termini che abbiamo messo in noi cioè sono potere attivo potere produttivo non potere repressivo potere di vivere potere di produrre di fare di fare forme di vita e biopolitica come termine con cui questa produzione di vita è particolarmente importante nel neoliberalismo devo chiedere la professoressa ha proprio preso in considerazione due concetti che poi vorrei riprendere innanzitutto lei ha parlato di neoliberalismo che è proprio l'argomento della domanda che vorrei farle vorrei fare riferimento a due lavori un suo lavoro che ho letto che è stato pubblicato nel 2018 che si chiama Ambiguity of the Neoliberalism ho sentito un passo interessante perché vorrei mettere in luce l'aspetto diciamo dinamico perché lei ha messo le impostazioni teoriche vorrei ripeterlo da un punto di vista più dinamico lei dice la cito brevissimamente dice il discorso neoliberale è capace di produrre soggettivazioni adatte alle trasformazioni globali del capitalismo questo è un primo punto un ulteriore punto vorrei fare vorrei fare un aggancio ad un articolo che ho letto recentemente di Gilles Deleuze che ho qui Gilles Deleuze post scritto sulle società dei controlli che per quanto è del 90 è stato scritto nel 90 leggendolo è estremamente attuale estremamente lo trovo pertinente con un collegamento ad esempio con lei l'ha richiamato anche nella sua prima risposta lei ha parlato di società del controllo io lo aggancio all'attuale società del controllo ma anche alle attuali limitazioni di libertà ma anche un sistema mediatico che in piena crisi del 2020 diciamo pericola discorsi che sono diciamo a sostegno soltanto di soluzioni neoliberali per fronteggere questa crisi quindi fatte queste premesse io vorrei chiederle se potrebbe aiutarci a mettere in luce diciamo le tappe essenziali del neoliberismo ha parlato di Foucault siamo negli anni 70 e 80 quindi dall'affermazione ma il neoliberismo ha subito delle si è è cambiato con la crisi del 2008 cambierà con questa crisi quello che succederà ancora è un po' presto allora vogliamo di conto bene effettivamente c'è messo in luce due filosofi tra loro legatissimi perché Deleuze era un libro molto amico ma anche scritto un libro molto bello va bene è vissuto però un po' più a lungo e ha visto di pieno se possiamo dire allora cominciamo con la rivoluzione del neoliberale diciamo che è una rivoluzione che inizia per la fine degli anni 70 e con la fine degli anni 70 80 e poi dura 40 anni a tutt'oggi in continuo però la rivoluzione neoliberale si innesta in un momento molto importante molto importante che Foucault come Deleuze hanno vissuto in prima persona il 68 ovviamente vero e quindi non si può immaginare bene questa rivoluzione se non si tiene presente e tutta la sua ambivalenza il fatto che non ha trovato un contrasto insufficiente è riuscita a essere vincente ha vinto sicuramente vero innanzitutto diciamo è una rivoluzione culturale perché è una rivoluzione culturale perché certamente si innesta su un cambiamento importantissimo è ovvio del capitalismo che passa dalla fase fordista alla fase post fordista la fase fordista lo dico per chi magari certamente non per tutti perché è più che noto però alla fase fordista si adatta a un potere di governo disciplinare disciplinare cioè crea cioè lavora per produrre soggetti docili adeguati alla produzione industriale quindi produzione di massa diciamo e soprattutto adeguato alla centralità che per l'economia ha il concetto di produzione ricordo che anche Marx dà al concetto di produzione il punto è il nerbo su cui si innesta tutta la lotta di classe vero quindi è la produzione il punto chiave cosa invece succede in quegli anni non solo si cambia il sistema produttivo e si esce dalla fabbrica verso una produzione immateriale sociale la crescita enorme del terziario del cognitivo e questo è un primo passo è un primo passo che come naturalmente qualunque economista sa significa anche svincolare il controllo che il mondo operario aveva sul sistema produttivo attraverso le lotte operarie e così via e quindi la centralità del salario del valore uguale salario e invece c'è lo svincolamento di questo verso una contrattazione aperta diciamo differenziale perché naturalmente non contano più le ore di lavoro ma la produttività la capacità la creatività tantissime cose che sono molto belle è che nel 68 hanno trovato una grande rivalutazione e infatti il 68 è un periodo in cui l'autonomia del sociale cioè la capacità del sociale di rivendicare se stesso di mostrare se stesso pensate ai grandi movimenti femministi a quelli razziali cioè per esempio quello dei neri in America sono stati movimenti che dal basso senza chiedere rappresentazione davano mostravano un potere reale di letto noi siamo qui non ci facciamo rappresentare siamo qui manifestiamo la parola manifestare era il cuore di tutto ma no manifestare ora che cosa fa il capitalismo di fronte a questa non solo alla crescita enorme del movimento popolario che è lo statuto dei lavoratori eccetera il capitalismo cerca una strada il capitalismo è il neoliberalismo che è la sua razionalità politica in realtà cerca una strada per sfuggire ai controlli per sfuggire agli accresciuti controlli che il welfare aveva portato avanti che lo statuto dei lavoratori aveva portato avanti si tratta di spostare dalla produzione al mercato che poi è il cuore del capitalismo nuovo del nuovo capitalismo e soprattutto poi il mercato finanziario perché il mercato finanziario dico queste cose perché sono storiche però si notano molto bene questa storia che cosa succede negli anni 70 e finisce il boiton boots cioè la moneta che era il cuore politico del sistema perché era il cuore del controllo ancorato come era alla base aurea al talone aureo ovviamente nel momento stesso in cui viene svincolata viene affidata al semplice movimento del mercato quello è il modello il modello delle società di controllo il controllo non avviene da un punto di vista politico avviene tramite mercato tramite il mercato semplice il puro mercato a cefalo perché mentre la sovranità è è è qualcuno e c'è qualcuno ne è responsabile e tu puoi fare cassino con qualcuno e puoi dirgli le cose quindi i mercati i mercati i mercati gestiscono e soprattutto quelli finanziari che sono i più volatili di tutti gestiscono il movimento il movimento di regolazione di regolazione cioè avviene fuori dal momento produttivo il momento produttivo è un problema di chi di chi produce che viene invece completamente affidato totalmente affidato a ciascuno ciascuno rivendica la sua autonomia la sua capacità di produrre e sfugge non tutti perché le fabbriche rimangono e lo sfruttamento classico rimane questo è importantissimo ricordarlo però certamente quello che denota il nuovo è tutta questa enorme capacità della società di essere attiva produttiva autogestirsi mettere a frutto il proprio capitale umano dall'altra parte non deve deve essere un tipo di soggetto nuovo una soggettivazione diversa cito qui una super famosa del neoliberalismo Margaret Thatcher è chi più di lei la prima è la più grossa diciamo la più grande quella più lucida quella diceva l'economia non è il problema l'economia l'economia è il mezzo l'obiettivo sono le anime ora per dirlo una come quella certo non intendeva le anime diciamo le anime sante voleva dire le anime cioè l'anima delle persone che deve cambiare è qui che si vede che cos'è la biopolitica il cambiamento della scena della scena politica che non è più tanto il Parlamento ma il fatto che la gente cambia cambia e inizia a far propria che cosa questa legge questa verità che è la competizione la legge e qui abbiamo le tappe del neoliberalismo e anche le anime del neoliberalismo non sono tutte uguali ovviamente è evidente che c'è prima di tutto una grande divergazione tra un neocapitalismo continentale scusate un neoliberalismo continentale europeo e uno invece americano della scuola di Chicago pura diciamo della pura in Chicago boys i dipastimentici lì il gioco è complesso in America abbiamo questa forma di neoliberalismo che punta tutto come dice Baker il Gary Baker che è premio Nobel dell'economia è il capitale umano è il capitale umano ma questo ne parla già Foucault è il capitale umano il centro il centro è il capitale umano il capitale umano cioè ciascuno di noi è dotato possiede è proprietario del proprio capitale umano ci investe per crescerlo per farlo accrescere buone educazione buone scuole buone tutto e poi lo mette nel mercato cioè lo diciamo lo mette in gioco nel mercato è un il mercato è il luogo è il test dove tu vedi se sei stato capace oppure no e naturalmente perché il mercato è immobile è flessibile non ti dà i criteri come come le mansioni durante del contratto di lavoro del vecchio contratto di lavoro tu devi fare questo fa bene devi fare tante ore lo devi fare tante ore ma qui ora no le mansioni non contano contano il progetto che tu porti avanti che sia competitivo rispetto agli altri competitors che si presentano sul mercato ovviamente tutto questo non ha nulla a che vedere con la giustizia anzi la diseguaglianza è il cuore di questo sistema perché il mercato è differenza di valore e quindi diseguaglianza deve avere delle diseguaglianze queste ovviamente crescono enormemente ma comunque ci siamo allora da qui abbiamo il primo il primo movimento è il passaggio nella società di controllo abbiamo il passaggio da una società che portano sulla produzione sulla disciplinamento a una società che lascia assolutamente libertaria soprattutto in America che però si misura sulla diciamo sulla competizione del mercato in Europa però questa stessa competizione viene soprattutto la Germania e questo è il nostro il nostro totem per l'Europa la Germania mette a fuoco esattamente mette a fuoco esattamente questa regola della competizione come una regola assoluta una regola assoluta una regola che viene resa rigorosa viene protetta va bene cioè il mercato in sé non può essere lasciato libero tutt'altro il mercato deve essere governato perché va protetta la norma della la 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 competizione e la competizione significa che nessun intervento dello Stato quindi e quindi austerità debito pubblico tutte vedete due anime che si differenziano fino a un certo punto quando l'espansione è stata forte la cosa ha tenuto anche perché erano notevoli fasci i soggetti che si erano formati erano soggetti che si sentivano in qualche modo potenti ma soprattutto liberi pensate la liberazione da tutti gli schemi sindacato chiesa famiglia niente sei libero ti puoi fare la tua vita dovunque il mondo è tutto aperto e questo è una mente però a un certo punto comincia una serie di crisi che crisi che e qui entra un altro termine importantissimo del neoliberalismo che già Foucault aveva messo in luce l'emergenza piuttosto che il vecchio sistema era l'eccezione lo stato di eccezione vero qua non è lo stato di eccezione è la continua emergenza perché la continua emergenza implica dispositivi che permettano di risolverla cioè solo in emergenza tu puoi spendere come non c'è stata nessuna rivoluzione ovviamente i diretti teoricamente sono sempre là vero però sono sospesi l'emergenza è l'emergenza c'è una crisi c'è un problema e allora si ha un intervento emergenziale ogni elemento emergenziale riduce lo spazio diciamo della giustizia e permette in altre parti anche un intervento anche sicuritario perché questo mondo in cui tutti fanno quello che possono liberano al massimo le proprie potenzialità in una competizione continua ovviamente è un mondo molto molto pericoloso molti rischi moltissimi rischi come diceva sempre Foucault la 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 biopolitica è liberogina e liberticina cioè ti libera ma nel momento stesso in cui ti libera è pericolosa e bisogna anche bloccare bisogna anche bloccare bisogna assicurare assicurare parte il fatto che tutto passa dalla da lo Stato ai sistemi di assicurazione privata e così via questo si sa ma di assicurazione soprattutto in America negli Stati Uniti dove è così forte il neoliberismo è dove tutto passa attraverso differenti assicurazioni capacità di assicurazione questo è chiaro in Europa dove c'è la tradizione non sarebbe più forte ci sono maggiori codificazioni maggiori blocchi maggiori controlli questo è chiaro un altro aspetto per la società dei controlli che è molto bello che è veramente molto bene perché è molto previgente mostra come anche se l'individuo diciamo così produttore è sicuramente un individuo che fa leva su se stesso che è solo che fa leva sulla sua propria capacità produttiva competitiva e imprenditore di se stesso da un punto di vista del consumo che per il mercato è importantissimo se il centro non è la produzione ma il mercato allora qual è la cosa più importante il consumatore ovviamente il reconsumatore ma questo consumatore non è un individuo viene dissolto attraverso gli algoritmi in profili di consumo di rischio di potenzialità e questo è paradossale perché noi abbiamo un governo delle vite che scompone la vita e la rende smaterializzata digitalizzata la rende banche dati del fatto che io come lui fumo e quindi sono a rischio e la mia assicurazione costa di più come quest'altro però ho delle capacità ho mostrato capacità e quindi faccio parte delle potenzialità si governa differenzialmente chiaro chiaro e può essere anche un vantaggio per certi versi come si studiscono tanto che ora nella gestione della epidemia e della pandemia alcune regioni vorrebbero altre regioni la differenza è il cuore della biopolitica cioè non esiste ed è come tutti sappiamo la differenza è il cuore della rivoluzione della rivoluzione femminista della rivoluzione cioè la rivendicazione del potere della differenza questo è importante capirlo perché altrimenti uno non si rimane stupito che siamo andati poi che è difficile trovare persone che stanno dalla parte di chi vorrebbe cambiare le cose è molto difficile perché molte persone sono cresciute e formate in questa mitologia in questa vita e in questa realtà che è la differenziazione l'assoluta diciamo così percorso personalizzato vai ogni cosa è personalizzata io appena mi scrivo ecco abbiamo tentato di scrivermi al Skype mi sono già arrivati tre messaggi guarda che però noi possiamo io ti conosco tu mi conosco fidati ecco questo rapporto coinvolgente di coinvolgimento tipico non sono costretta però sono spinta capito sono qui ora la crisi del del 2008 cerco di essere rapida perché mi lascio troppo grande nel 2008 la crisi è chiaro è stata una crisi che finanziaria è dovuta al mercato finanziario che era assolutamente volatile non avendo nessun aggancio e quindi è esposta alla speculazione però il problema è che è stata gestita pensata narrata che è una cosa forse più interessante come se non si fosse stati abbastanza neoliberali come se la diciamo il tema fosse stato affrontato la colpa fosse di coloro che ancora non erano abbastanza neoliberali e quindi ovviamente non ha fatto che diciamo riaffermare con quell'area diciamo un po' ordo liberale cioè di ordinativa regolativa perché tu diventi veramente neoliberale perché tu adotti le politiche neoliberali quest'ultima crisi in qualche modo è un bel guaglio per certi aspetti però naturalmente offre come tutte le crisi delle chance delle chance perché ovviamente dato che le diseguaglianze sono state da una parte esasperate evidentemente non tutti sono stati curati allo stesso modo non tutti possono curarsi allo stesso modo però sono state anche come dire psicologicamente ridotte dal fatto che siamo corpi corpi e il virus non guarda in faccia nessuno in questo senso la biologia e la biomedicina mostra un'assoluta diciamo condivisione dei destini e quindi sarebbe il caso di cominciare a ripensare il tipo di controllo che il neoliberalismo fa sulle vite cioè fa un tipo di controllo legato al sistema proprietario io ho questo e quello che ho mi dà il diritto poi di avere più protezione più questo sistema proprietario mostra molte crepe molti punti di fragilità e quindi beh con questo se mai riparliamo te mi ti vado troppo avanti vai io vorrei fare una piccola nota magari perché sono interessato molto a un tema ho segnato mentre lei parlava tre parole che vorrei richiamare per questa domanda cioè statuti di verità mercato anime il tema che vorrei adesso affrontare è quello le ripeto un piccolo approfondimento perché essendo io studente d'economia lei è una filosofa quindi legge libri che io studio in modo diverso mi piacerebbe avere un suo punto di vista cioè il tema fugoltiano del rapporto tra potere e saperi lei già l'ha evocato ma lei se ne occupava ma tornareci perché è importante molto importante per oggi sì ancora come ancora altre domande un'altra no posso rispondere sì 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 ecco allora dobbiamo tornare quindi a Foucault a Foucault è meglio ancora che a Foucault nel caso di fare filosofia ma è Nietzsche è Nietzsche il primo che non ritiene assolutamente che nessuno statuto di verità o nessun enunciato di verità o morale sia in sé diciamo così puro non esiste perché gli enunciati di verità sono e quindi gli statuti ciò che è considerato un discorso veridico in un determinato periodo, ciò che diciamo è pensabile e decibile in un determinato periodo, se io entro e dico ma io ho chiamato la fattucchiera tutti quanti mi guardano con un'area di sufficienza perché è arrivato ad essere uno statuto di verità alcune cose lo statuto di verità è originato da investimenti di potere non è privo di potere, non è senza non solo esercita potere perché diventa il cuore del dispositivo, della formazione dei soggetti, della formazione dei dispositivi di potere i dispositivi per affrontare il coronavirus sono strutturati attorno a un dispositivo a un statuto di verità che ritiene che vada salvaguardato il mercato chiaro va bene gli interventi ma non tali da danneggiare il mercato chiaro in cui le posizioni non siano mutate le posizioni di potere sociale di potere economico che significa che non ci sono enunciati innocenti perché non c'è nulla di innocente ma non perché siano colpevoli sono legati e questo è importante a forze a vettori di potere ogni vettore di potere diceva Foucault noi non possiamo esercitare potere senza verità perfino quando riprendiamo un bambino mai che mai che possiamo dire non fare così perché non fare così punto cerchiamo di dargli una spiegazione perché in effetti è solo così che si forma il soggetto governato chiaro cioè attorno allo statuto di verità solo che questo statuto di verità non è in sé assoluto ma non è neanche falso non è falso non è falso e non è vero è funzionale è una politica di verità sono sempre politiche di verità se chiedi a un genetista io vengo dalla famiglia di genetisti se chiedi a un genetista se sia vero o non vero quello che che stanno dicendo quello naturalmente ti dice che dato lo statuto di verificazione di veridicità possibile è quanto è vero ma hanno ottenuto finanziamenti sono stati indirizzati in modo tale che sia governabile la cosa giustamente non discutiamo perché sia governabile cioè la conoscenza è fatta non è pura non c'è una verità pura esiste una verità che è funzionale a costruire il soggetto il comportamento perché noi non possiamo che costruirci attorno alla verità e quindi a quella verità dobbiamo contrapporre un'altra verità cioè noi dobbiamo nelle crepe di questa verità che è una verità ma non è un blocco non è un blocco è un insieme di proposizioni di idee alcune delle quali sono molto importanti per esempio quella dell'autogoverno della libertà chi ci vuole difunciare per farci gestire magari da uno più buono o più bravo no questo nodo di verità che anche il neoliberalismo porta tutte hanno un nodo di verità però noi lo dobbiamo cogliere nei punti di frazione i punti in cui non funziona perché è chiaro che i suoi discorsi sono funzionali a chi questa verità supporta chi la finanzia chi la aiuta vero per esempio le agenzie di rating non solo è film banale è come uno pensasse che tutte le appunto nel saggio nell'articolo che mi hai mandato probabilmente solo nel modo più infantile possibile si può immaginare che si arriva a un'agenzia sovranazionale come l'ONU l'ONU o il VTO o un posto dove niente sono posti dove si negozia e devo dire che nella mentalità neoliberale il concetto di negoziazione è molto interessante cioè non essendo avendo essendo un potere relazionale entra sempre in negoziazione mentre il vecchio potere identitario quello diciamo così quello che considerai il mio popolo innanzitutto è chiaro quello identitario è un potere diciamo indisponibile tu non ci puoi transigio non ti dico la religione beh invece questo questi regimi di verità sono negoziabili entrano in gioco con altri regimi di verità si tratta di avere la forza di negoziare cioè di trovare i punti di forza per poter negoziare per poter ampliare la crepa fino a che quello si sgretola perché quella è una credenza è una credenza come diceva Hume che era uno dei primi a studiare l'economia l'economia regge sul credito sul credito sulla credenza sul credere che bene se quella credenza si sgretola come si è sgretolata la credenza che lo Stato potesse provvedere a tutto ed è cominciata invece questa epoca rivoluzionaria in cui tu ti devi assicurare da solo perché nessuno ti assicura anzi da noi ancora ancora qualcosa ma insomma sempre meno mentre invece ci sono proprio stili non ti puoi essere ti devi assicurare da solo questa cosa anche mostruosa immagina un individuo da solo senza nessuna protezione senza nessuna relazione con gli altri questa cosa così cambia può cambiare è un regime di verità se chiedete a qualcuno se pensa di essere libero autonomo potore di se stesso ti risponderà sicuramente sì poi se vai a vedere a fondo non è così non è così è possibile pensare questa cosa in modo diverso è possibile a un regime di verità contrapporre un altro regime di verità sempre non bisogna sottovalutare che il potere è una relazione le relazioni cambiano sono instabili sono relazioni asimmetriche ma instabili continuamente instabili non lo so se lo statuto di verità forse si poteva vabbè no chiarissimo professore ha dato degli spunti interessanti assolutamente prima di concludere perché vedo che siamo un po' fuori tempo ce la faranno sicuramente prima di concludere volevo condividere condividere con lei un articolo che ho letto che appunto l'avevo mandato che lei ha richiamato di Pierluigi Fagan che abbiamo avuto anche il piacere di avere come ospite a Milano abbiamo anche intervistato qualche settimana fa questo articolo dal titolo Biogeopolitica in cui Fagan fa una domanda che proprio le faccio direttamente interessante troppo interessante e cioè se la categoria e la biopolitica può essere utilizzata per analizzare i conflitti geopolitici certamente sì anzi assolutamente i conflitti geopolitici non possono più essere pensati attraverso il vecchio stato sovrano certamente ci sono stati sovrani per pensare alla Gina e agli Stati Uniti che si contrappongono quindi noi abbiamo una scena in cui coesistono sia sovranità che accordi di gruppi macro-ragionali non è più possibile pensare soltanto in termini di stati singoli ma di gruppi macro-regionali di potere e questi gruppi hanno carattere biopolitico in questa circostanza particolarmente perché per esempio il vaccino è un tema di potere biopolitico che troverà negli accordi di gruppi e di influenze per esempio la Cina sull'Africa gli Stati Uniti sul Brasile ovviamente ci sono forme di controllo e in Europa la ricavvista un po' un po' un po' ma soprattutto diciamo non ha la forza di imporsi come potenza macro-regionale abbastanza considerevole diciamo questo tipo di governo questo tipo di governamentalità non è possibile assolutamente pensarlo nella vecchia istituzione solo come geopolitica anche perché la valorizzazione del capitale non passa più attraverso la contrattazione delle fabbriche ma attraverso catene di valore le catene le famose catene di valore in cui il trasporto il passaggio da un punto all'altro comporta una certa valorizzazione del capitale quindi soltanto una dimensione geopolitica ci permette di capire queste cose questo non significa che sia pacificato niente affatto e anzi si prospetta come un periodo di grande tensione perché a meno che questo specifico movimento quello dell'uscita dalla pandemia spinga la gente a diciamo assumere posizioni solidaristiche internazionalistiche che le grosse potenze non possono contrastare pur volendo non riuscirebbero più a contrastare però sono molto ottimista su questo perché invece la posta in gioco è forte e ci sono azioni che sono completamente appunto nell'articolo che mi hai citato c'è la posizione dell'Africa che è assolutamente dipende nel senso proprio di dipendere da altri dipende ma questo sarà anche dell'America Latina questo è ovvio il sud d'Italia dell'Europa ha forse ancora c'ha delle porti ma quelle ci sono zone che assolutamente hanno bisogno di essere gestite di essere cioè saranno gestite quindi è chiaro che la biopolitica e la geopolitica sono le nuove dimensioni e il populismo nazionale non sembra avere la forza di contrastare si userà la sua retorica che è sempre utile però non è una non crea paese non riesce a creare solidarietà nel paese almeno a mio avviso poi lo so chiarissimo va bene alla conclusione volevo adesso dopo che lei ci ha aiutato anche a fare questa analisi e questa interpretazione della realtà sarebbe anche opportuno mettendo anche in luce le criticità e le contraddizioni sarebbe anche opportuno far riflettere sulle prospettive future ma anche sulle immagino una prassi un'azione senza senza la quale le analisi sarebbero prive di senso è giusto Foucault è uno di quelli che pensavo che bisogna per forza fare prassi cioè questo erede di Marx assolutamente diciamo teoria senza prassi non ha senso perché la teoria è già prassi proprio perché si fa su campo si fa nelle cose ma penso che diciamo alcune cose dobbiamo considerare che noi abbiamo a che fare con soggetti che sono cambiati non possiamo ritornare a soggetti che non esistono classe esiste sicuramente la classe è diventata la classe quella che era lo scontro di classe è diventata il prendere posizione non è il proletario no diventa classe la posizione di lotta di lotta è chiaro è classe ciò che lotta sia che sia di un gruppo razziale che sia di un gruppo femminista o che sia per esempio dei precari o dei migranti è la posizione che fa la classe quindi senza altro e dobbiamo tenere presente assumendolo come un fatto positivo che ormai la rivoluzione prima il 68 e poi la rivoluzione neoliberate ha regalato al sociale l'iniziativa è dal basso tenere l'iniziativa su questo è sicuro cioè non possiamo aspettarci dall'alto qualcuno che ci dice che fare dobbiamo farlo dal basso questa cosa può essere pensata ed è stata pensata nelle sperimentazioni che abbiamo è stata pensata aggregare i movimenti dal basso attraverso la gestione di ciò che supera l'individualismo proprietario e diventa comune senza essere dello Stato quindi pubblico ma è che è comune questo è un elemento interessante certo va studiato che non è una cosa semplice ma potrebbe essere che diciamo per esempio proprio a partire dalla pandemia la diciamo gestione comune ricordatevi che dico gestione non la proprietà la gestione comune e diretta cioè attiva di ciò che è indisponibile è inappropriabile come l'acqua oppure come la salute come il sapere come questi sono elementi che contrastano profondamente il mercato perché il mercato tutto può fare ma tranne che mettere in comune perché se mette in comune perde ovviamente perde se stesso quindi si tratta di contrastare l'autogoverno che si sottopone al mercato in direzione di luoghi di aggregazione ma potrebbero essere anche luoghi pubblici luoghi spazi comuni vero così è stato fatto nella sperimentazione più comune vero spazi comuni che vengono autogestiti piccole cose ci vuole qualcosa di più ci vuole qualcosa che abbia la capacità in questo senso di egemonizzare temi di Gramsciano ma insomma non del tutto fuori luogo egemonizzare questi movimenti da basso crearne una certa aggregazione attorno per esempio appunto a una battaglia che accomuna contro uno struttamento contro una diseguaglianza oppure la gestione di una cosa comune la sanità gestita direttamente qualcosa che non si è mai vista perché il welfare è un'altra cosa il welfare è disciplinamento è gestione dall'alto non è autogestione nessuno chiedeva alla madre single se voleva o non voleva i pomodini arrivavano e gli fanno punto ti piace o non ti piace quindi qui si tratta invece di gestire direttamente di avere un ruolo attivo che dovremmo aver imparato questo lungo percorso doloroso che è stato il mio libero poi non lo so che dici tu speriamo professoressa proviamoci proviamoci innanzitutto già questa breve intervista magari può avere un micro contributo io la ringrazio tantissimo finalmente ce l'abbiamo fatta a fare intervista a proposito di proviamoci magari anche in altri dibatti sarebbe interessante riprovarci soprattutto se abbiamo trovato un modo di comunicazione più facile magari anche di presenza che è molto meglio quindi professoressa la saluto e la ringrazio ancora e a prestissimo grazie ciao ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti